Buonasera naviganti, ecco a voi nuovamente il vostro agente Mr. X, questa volta con un video dal letto perché distrutto dalla giornata lavorativa, intensa giornata di spionaggio. Non c'è qui con me il mio collega e compagno ormai di vita Sirio perché sta dormendo, se non ve l'ho già detto lui è praticamente un agente in incognito che fa finta di essere un cucciolo disgraziato, incrocio mare in mano Labrador, una specie di mare in mano diciamo. Comunque, come mai questo video dal letto nonostante la stanchezza e come mai così dopo il video di domenica? Bene, perché per diversi motivi. Il primo è che sono un po' incacchiato per le ultime notizie e ho fatto delle riflessioni in merito a quanto è accaduto in questi ultimi giorni. Io sono un tipo che non ha spesso la risposta pronta subito, ho un'opinione chiara sin dall'inizio e questo mi ha portato spesso anche nelle discussioni ad avere dei problemi. Certe volte a fare degli sbagli o comunque a non riuscire a dire la parola giusta al momento giusto, quindi ho bisogno di riflettere, però rifletto poi in profondità. Ma cerchiamo di essere veloci rispetto al video precedente. Parlerò di tre, quattro argomenti. Come al solito vado improvvisando, quindi abbiate pazienza. Allora, il primo argomento di cui voglio parlare ovviamente è il cazzo di covid. Dunque, inutile riassumere quanto successo perché penso che lo sappiate, scusate, penso che lo sappiate meglio di me. Ci sono state delle piccole rivolte che sono sfociate nella violenza. Ora, per quanto riguarda questo, siete delle... puntini puntini. Perché? Perché praticamente state facendo quello che vogliono loro. È come se siamo dei piccoli redditori in un labirinto, in una gabbia, che si ammazzano per un pezzettino di formaggio. E loro stanno lì a guardare e ad esaminare l'esperimento. Che senso ha fare protesta andando a sfasciare le vetrine dei negozi di un povero commerciante o la macchina di un povero lavoratore che l'indomani, con la macchina sfasciata, non può andare al lavoro. Che senso ha? Che tipo di manifestazione è? Quindi state facendo esattamente quello che vogliono loro. Quello che bisognerebbe fare, e dico mea culpa anche, sarebbe quello di scendere tutti in piazza. Tutti. Dal primo a ultimo, e non fare assolutamente niente. Ovvero, niente violenza, quindi dimostrazione pacifica, ma non fare niente, quindi dire no, a tutti i loro sistemi. Se riuscissimo a fare questo, potremmo fare fallire, scusate, potremmo ridurre sull'astrico, diciamo, una banca, o Amazon, o i distributori di benzina, o il governo stesso. Basterebbe che tutti, nello stesso momento, dicessimo no. La violenza non serve a niente, e soprattutto non serve fra di noi, cioè scannarsi fra di noi, ma a che cavolo serve? Che cosa ottenete? Si è detto che parte di questi rimostranti fossero ultras di varie squadre, che quindi vanno a sfogare il testosterone che purtroppo per incapacità di attitudine o per impotenza non possono sfogare con la propria partner, e quindi si creano queste situazioni. Signori, finché non capiremo che l'unione fa la forza, ma soprattutto l'unione pacifica fa la forza, il popolo non combinerà mai niente, sarà sempre schiavo, e si scannerà, diciamo, autoconsumandosi, distruggendosi. Questo è il primo argomento. Passiamo al secondo, sempre sul Covid. Allora, ho riflettuto sulle ultime misure prese dal governo. Allora, togliendo il fatto che questo virus dalle 23 alle 5 non va a dormire, dico che senso ha mettere questo coprifuoco quando puoi immaginarti benissimo che la gente durante comunque tutta la settimana e soprattutto poi il sabato, il venerdì sera e il sabato dalle 7 fino alle 11 ci sarà il manicomio in giro di gente che appunto vuole uscire giustamente dopo una settimana di lavoro stressante con il Covid eccetera eccetera e quindi che cosa hai risolto quando prima delle 23 c'è un bordello di gente in giro? Che cosa hai risolto? Allora, forse, e dico forse, ammesso che il Covid sia così pericoloso come dicono, forse la misura migliore era quella di far perdurare il lockdown anche d'estate finché questo virus non fosse sparito. Ma al tempo stesso, se tu tieni il lockdown, devi garantire ad ogni singolo cittadino una sussistenza, un rimborso, tutto quello che vuoi dell'attività commerciale eccetera, devi sostenerlo incondizionatamente. E qui c'è una collusione tra Unione Europea e governo italiano. Come dicevo nel precedente video, non ha alcun senso mettere delle condizioni a questa situazione, è assurdo, è disumano, quindi l'Unione Europea è disumana e il governo italiano è disumano. Purtroppo, mi spiace dirlo, ma è così. Perché sì, durante il lockdown si parlava di piogge di miliardi, ogni giorno alla radio, al lavoro, sentivo miliardi di qua, miliardi di là, dove sono? Io vedo solo cartelli con scritto affittasi, vendesi, chiusura attività a Palermo e zone limitrofe. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Che razza di gioco è? A parte questo, sembra che il nostro premier stia veramente giocando. Scusate ancora. Stia veramente giocando. Perché è come se ci stesse infilando una supposta piano piano, no? Come, che ne so, il papà col bambino dice no, non ti ci porterò dal dottore, prendi lo sciroppo, però alla fine poi ti ci porta. E quindi sembra un po'... Scusate il paragone se è stupido, ma sembra la stessa cosa, no? No, dobbiamo evitare il lockdown. Dobbiamo prendere le misure per evitare il lockdown. Però, intanto, le parole che usa, il modo in cui si stanno comportando, sembra che stiano puntando a quel momento. Anche se esitano. Soprattutto da quando ci sono state queste manifestazioni violente che forse erano più prevedibili in Francia e in altri paesi europei dove spesso ci sono state delle rivolte, delle rimostranze per varie problematiche. Mentre in Italia è raro che si scende in piazza per, diciamo, motivi sociali, politici e quant'altro. Perché? Perché sta venendo a mancare il pane, sta venendo a mancare la libertà, la vita. E vi do un consiglio per chi ci tiene. Festeggiate il Natale adesso, perché probabilmente non potrete festeggiarlo a dicembre. Ovviamente io faccio l'uccello del malaugurio, ma mi auguro che ciò non avvenga. Però sembra che la strada è quella. Vogliono... Sembra che vogliono, come dire, demolire l'essere umano sociale. Quindi rinchiuderci nelle case, stare appiccicati al computer, guardare le stronzate della tv, stare a postare cazzate su Instagram con frasi d'effetto, stare su Facebook a farci i cazzi degli altri e quant'altro. Quindi eliminare i rapporti umani, anche familiari. Quindi a casa propria non più di sei persone. Toglierci la famiglia, limitare la famiglia, la cosa più grave a livello sociale, a livello umano. Tutto questo credo che poteva essere evitato con altre misure. E poi ancora la questione del vaccino. La questione del vaccino sembra veramente una presa per il culo. che io sappia da quelle poche informazioni che ho per fare un vaccino ci vogliono anni e anni. Com'è che questi già... È pronto il vaccino! È che è espresso. Boh! Può essere che già era pronto da prima, lo tengono in frigo insieme allo yogurt e sono pronti lì a smerciarlo perché alla fine, guardate che tutto, da che mondo è mondo, sin dai tempi dei sumeri, dei babilonesi, gira intorno ai soldi, all'oro. Le mie, fate attenzione, sono solo supposizioni. Però sono strane le cose che accadono. Uno se le fa due domande. E questo è un argomento. Un secondo argomento di cui voglio parlare, collegato al primo, e che mi sta proprio dando parecchio fastidio, riguarda la Chiesa Cattolica e il Papa. A me francamente il Papa sembra un orologio a cucù. esce all'orario prestabilito e fa cucù. Stessa cosa il Papa esce dice un paio di frasi che sembrano prese dai baci perugina. Frasi d'amore, frasi di fraternità e quant'altro è finito lì. Io non nego che la Chiesa abbia come dire i suoi canali con cui fa beneficenza e quant'altro. Però penso che si potrebbe fare di più sia a livello di gesti e di parole sia a livello economico. Se non conoscete molto bene la storia recente a livello politico ed economico della Chiesa Cattolica vi invito a andare a spulciare anche su YouTube e su Google la storia del Banco Ambrosiano del Cardinale Marcingus e il delitto e il mistero relativo a Calvi. A parte questo poi anche le storie recenti relative a acquisti di appartamenti ma anche cose più note come tutte le esenzioni a livello tributario di cui gode la Chiesa Cattolica a livello immobiliare dico io sono cose tollerabili in questo in queste situazioni così gravi a livello economico e sociale non dovrebbe dare il buon esempio la Chiesa Cattolica stiamo parlando del Papa ovvero del rappresentante di Pietro quindi chi meglio di lui dovrebbe dare lui e i cardinali dare l'esempio e invece sentiamo tanti scandali non sono situazioni tollerabili signori dovremmo tutti fermarci e dicendo no chiudere ogni rubinetto che alimenta i loro guadagni è assurdo passiamo alla al terzo argomento che non ha nulla a che fare con i primi due ovvero la Luna la NASA ha dichiarato che c'è acqua sulla Luna va bene bella notizia può essere una potenziale risorsa in futuro per un'ipotetica base lunare fra cento anni o una risorsa per il nostro pianeta ok però io da ignorante mi faccio due domande a parte che erano settimane che si parlava di questa straordinaria notizia che sarebbe uscita la NASA avrebbe detto chissà che cosa eccetera ok io già mi immaginavo che si parlava di acqua allora con tutti i potenti telescopi che ci sono e che ci sono stati negli ultimi trent'anni negli ultimi vent'anni con cui si sono scoperte fonti presenza di acqua anche in pianeti asteroidi e satelliti più lontani non ti non ti viene da pensare ma la luna dico è qua dietro l'angolo come mai la stanno vedendo solo ora quest'acqua e questa è la prima cosa come mai poi questa notizia proprio adesso in un momento del genere ho dato un'occhiata alle notizie su google e si parla di questo potente telescopio che viaggia su un aereo quindi non a terra come gli altri comuni telescopi che quindi ha come dire una marcia in più tra virgolette diciamo rispetto agli altri telescopi perché permette di eliminare determinati filtri determinati ostacoli e di vedere in maniera più nitida determinati particolari per cui tramite questo telescopio si sono accorti di quest'acqua tra l'altro su un grosso visibile dalla cioè nella parte diciamo illuminata dal sole quindi non the dark side of the moon ma the white non so non mi ricordo il termine per chiaro comunque dopo la pessima citazione dei pink floyd quindi potrebbe essere che la nasa deve fare questa notizia deve pubblicare questa notizia per giustificare in un periodo così grave anche in america come sappiamo il covid sta facendo un po' di danni quindi giustificare i soldi che vengono spesi appunto per la nasa e quindi dicendo guardate questo telescopio è utile perché ha fatto questo questo e quest'altro quindi i soldi sono stati spesi bene chi lo sa punto interrogativo quello che sto imparando negli ultimi tempi è che bisogna avere pazienza riflettere in maniera approfondita non farsi prendere dalla rabbia e soprattutto dare tempo al tempo dare tempo al tempo e cogliere saper cogliere in ogni situazione anche la più negativa la più difficile la più dolorosa poter cogliere qualcosa di positivo per andare avanti non lasciate che la rabbia la sofferenza prendano il sopravvento cercate di concentrarvi positivamente su voi stessi riflettete su tutto quello che sta avvenendo e cercate di dedicarvi più che potete agli altri perché ho l'impressione che qualcuno voglia cercare di toglierci proprio questo ovvero con questa crisi con questa oppressione quindi magari le persone tendono appunto ad essere violente a pensare solo a se stesse invece è proprio il momento di pensare per il prossimo detto questo il vostro agente X si vede una puntata di Umbrella Academy e finirà in coma davanti al pc domani è un'altra giornata lavorativa ma presto avrete ancora mie notizie sulle mie indagini e sulle mie riflessioni ciao